vediamo se libera vedi il piccio Siamo arrivati al raioporto e non ho provato prima quindi spero che io faccio davvero guardate questo so let's hope I don't hurt myself 3, 2, 1, go next next but I'll get lost and go to the group haha 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti